Tira, tira, vai! 16 di novembre, scusatemi, del 2010, quando i malati di SLA tracheostomizzati, basta guardare le foto, si capisce anche senza tante parole, tracheostomizzati, spaventati di una patologia altamente invalidante, senza cure, scendevano in piazza a Roma, davanti al Ministero della Finanza, per chiedere il ripristino del fondo non autosufficienza. Hanno ottenuto buona parte di quello che hanno richiesto. Purtroppo i fondatori del comitato 16 di novembre non ci sono più, ma ci siamo noi, a portare avanti il loro lavoro, a dare un aiuto concreto alle persone che si trovano in un momento di difficoltà. Vogliamo creare un canale di comunicazione tra le famiglie e le istituzioni. Loro, vedete, lo dice anche il logo, vogliono rispetto per la loro condizione fisica, vogliono che sia preservata la loro dignità e i loro diritti. Vi ringrazio. In questo percorso saremo accompagnati dalla dottoressa Anna Paola Pecci, palliativista, e il dottor José Ramón Morales, psicologo e psicoterapeuta.